Maremma all'avanguardia per un innovativo progetto sviluppato da Affidati SPA in collaborazione con l'azienda agricola Benelli. Il progetto prevede l'utilizzo della tecnologia blockchain per la notarizzazione delle informazioni al fine di tracciare la filiera produttiva del mirtillo gigante biologico Borgo San Giuliano con la massima sicurezza e trasparenza, con lo scopo ultimo di soddisfare maggiormente le esigenze dei consumatori ormai sempre più attenti alla provenienza e alla qualità del prodotto. È una coltivazione che sicuramente non nasce nella nostra zona, però abbiamo scoperto che la nostra zona ha delle caratteristiche del terreno che consentono di avere delle produzioni interessanti e significative. Noi abbiamo scelto sin da subito di produrre in biologico. Il sodalizio con Affidati è nato per cercare di comunicare al mercato quelle che erano le caratteristiche che definiscono il nostro mirtillo rispetto a quello della concorrenza. Ma qual è l'aspetto più innovativo del progetto? Ci occupiamo di registrare tutte le fasi della produzione del mirtillo biologico. Questo per far sì che poi il consumatore finale, con un QR code che viene applicato nell'etichetta del mirtillo, non debba far altro che con il proprio smartphone inquadrare la vaschetta del mirtillo, inserire il giorno in cui è stato raccolto, che è riportato ovviamente nell'etichetta, e quindi all'interno di una pagina internet che si apre con lo smartphone potrà verificare tutte le informazioni della giornata in cui è stato raccolto e confezionato.